Mancano precisamente nove giorni e poi aprirà i battenti la Mediterranea Expo, l'appuntamento espositivo estivo della Sicilia, che conta circa 200 stand e più di 100 espositori provenienti da ogni parte dell'isola e del resto d'Italia. Tra conferme e novità i visitatori della fiera potranno vedere tantissimi prodotti, alcuni in esclusiva, dei vari settori merceologici e acquistarli direttamente in fiera a prezzi convenienti. Tra gli stand non mancheranno quelli riservati al settore di tappeti e pellicceria, porte ed infissi, ma anche grandi marche industriali ed imprenditoriali. La Mediterranea Expo edizione 2010 si presenta più rinnovata che mai con numerosi stand per l'arredamento della casa, per le vacanze, i viaggi, i centri benessere ed il fitness ed ancora stand con prodotti per il giardinaggio, per le piscine e per la nautica da di porto. Alla Mediterranea Expo non mancheranno i consulenti finanziari, servizi bancari, immobiliari, informatici ed assicurativi. Un ampio spazio espositivo sarà riservato alle concessionarie d'auto in moto e ai veicoli agricoli. Ci sarà anche un'area tematica denominata il Viale del Gusto, dedicata all'agricoltura e prodotti gastronomici tipici della terra siciliana, dove sarà possibile anche degustare. L'iniziativa è patrocinata dall'assessorato regionale risorse agricole e alimentari, anche quest'anno il prezzo d'ingresso della Mediterranea Expo è di 2,50 euro, tranne il 23, 27 e 29 luglio, serate nelle quali saranno presenti alla Mediterranea Expo ospiti VIP e tra questi il cantante Povia e la showgirl Belen Rodriguez. Il costo nelle tre serate sarà di 3,50 euro.